Le cascine abbandonate hanno un fascino tutto particolare, sono grandi, silenziose e sempre solitarie. Questa in particolare offre al visitatore uno spettacolo macabro, sventrata, trafitta ed in grossa parte distrutta, sembra il risultato d'un bombardamento. Con il tempo la stalla è diventata una sorta di discarica, non rimane più nulla di poetico e bello dentro questa stanza, qui il degrado è ormai ad uno stadio avanzato. Il tetto è in pessime condizioni, come una spada di Damocle un giorno crollerà, rendendo questo edificio solo un ricordo sbiadito. Ma questa cascina non era solo una stalla, gli edifici erano molti, tutti provenienti da epoche differenti. Quello posto sulla facciata, ad esempio, è quasi sicuramente del 1800, potrebbe quindi tranquillamente avere più di 200 anni. Sul lato opposto, invece, c'era l'abitazione, e di epoca più recente rispetto all'edificio precedente, osservando il suo stile si direbbe del primo ventennio del 1900. E' in condizioni fisiche disastrose, potrebbe essere abbandonato dagli anni 60 o dagli anni 70. Rimane in piedi per puro miracolo. Basta rimanere per qualche ora per osservare piccoli pezzi di muro staccarsi dalle pareti. A questa velocità, nel giro di pochissimi anni, non rimarrà più nulla. Questo video, quindi, è l'ultima testimonianza di questa cascina. La cascina dei tempi andati. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.